86esimo sul cronometro 0 a 0 tra Roma e Milan all'Olimpico. Ragazzi ma che brutta partita, che brutta partita, troppi falli, gioco spezzettato, tanti infortuni. Sono le classiche partite della Roma che prova a non far giocare l'avversario anche se è più forte tecnicamente. La Roma la butta sulla fisicità, sui falli, sull'interruzione del gioco ed è uscita fuori una partita sinceramente brutta, tecnicamente povera. Sì, vero, c'è stato tanto agonismo ma pochi tiri in porta, soprattutto del Milan. In questo momento c'è un calcio di punizione, 86esimo e 35 secondi da parte di Olivier Giroud che finisce alto sopra la traversa. Davvero poche, pochissime le occasioni e calcio d'angolo tra l'altro, quindi seguiremo anche questo calcio d'angolo. Pochissime le occasioni per i rossonieri di Stefano Pioli. La più grande è capitata sui piedi di Salema Kerr al sessantesimo. Pensate, la prima vera grande occasione con Salema Kerr che si ritrova la palla sul destro. Una buona possibilità anche a livello di posizione in area di rigore e spara alto dopo una bella combinazione tra Olivier Giroud e Rafa Leao. Leao che fino ad ora è stato un po' spento, molto tartassato, marcato, triplicato anche dagli avversari, ha avuto tanti uomini addosso, però il dialogo con Teo Hernandez non ha funzionato molto questa sera. Vediamo, 87 e 30 secondi, è uscito Olivier Giroud, è entrato Divo Corighi. Facciamo anche un riepilogo dei cambi perché comunque il gioco è sempre molto spezzettato, è entrato Kalulu per Kir, De Ketelare per Benasser, Malik Chao per Tomori, tra l'altro al primo minuto del secondo tempo è entrato Malik Chao per Tomori perché Tomori era sia ammonito, quindi diffidato e salterà la prossima partita contro la Cremonese a San Siro, turno infrasettimanale, ma anche perché Tomori aveva anche subito una botta durante il primo tempo. Quindi Saleme Ker per Brahim, anche lo stesso Brahim non è che abbia brillato più di tanto, queste sono partite complicate per lui, ha un fisico che non si adatta a questo tipo di gare dove la Roma la mette sull'aspetto atletico e ha dei giocatori comunque alti e robusti e forti fisicamente. Dunque siamo all'ottantottesimo e 38 secondi, il cronometro va avanti, ancora partita sullo 0-0, sinceramente se dovesse finire così parleremo di un risultato che serve a poco, Milano e Roma rimarrebbero praticamente con gli stessi punti, salirebbero a 57, però poi domani c'è l'Inter che gioca in casa con la Lazio, c'è anche l'Atalanta, insomma la Corsa Champions continua ad essere complicata. 89esimo, vediamo se si sblocca, ora c'è un giropala da parte della squadra rossonera proprio nelle retrovie con Tonali, secondo me uno dei migliori, ha preso tanti calci, ha preso tanti pestoni, in questo momento ancora un gioco che non riesce a decollare da parte del Milan, c'è davvero tanto pressing e tanti falli da parte dei giocatori della Roma, davvero tante ammunizioni. Tra l'altro c'è stato un bruttissimo fallo, un fallaccio di Bagnez su Saleme Kers al 75esimo e lì ci poteva stare il rosso, lì probabilmente c'era il rosso perché il giocatore della Roma va a gamba tesa, a gamba anche abbastanza alta con i tacchetti su Saleme Kers che salta in aria praticamente dopo quel colpo e sta a terra un bel po' dolorante. Alla fine Orsato ha optato solamente per il cartellino giallo ma secondo me c'era il rosso in quel caso nei confronti di Bagnez, ecco questo fa capire anche come gioca la squadra di Murigno, tanti tanti falli, tanti gialli, anche loro hanno avuto comunque dei problemi, è uscito con Bull per infortunio, lo stesso Belotti è uscito per infortunio, attenzione, occasione per la Roma al 90esimo con Madì, attenzione, un tiro da fuori aria dopo un'incursione laterale, questa è stata un'occasione sciupata dalla Roma, il Milan ne ha avute ben poche sinceramente per trovare il vantaggio. Mike Mignan non ha fatto grandissime parate, bisogna essere onesti, però la Roma quando colpisce in contropiede, quando riparte in contropiede è sempre molto pericolosa, il Milan non riesce ad essere così pericoloso, ripeto l'unica vera grande occasione è capitata sui piedi di Saleme Kers che però lì da un'ottima occasione, da un'ottima posizione ha sparato alto. Tra l'altro abbiamo ribadito anche che è entrato Divock Orighi al posto di Giroud per questo finale di partita, quindi cinque cambi per Pioli, tante sostituzioni, De Ketelare, Orighi, Malik Chao, Saleme Kerr, insomma tutti dentro, anche Kalulu, quindi vediamo se in questi quattro minuti finali il Milan riuscirà a sbloccare il risultato, ora in questo metto è inquadrato Rafa Leao, sinceramente non è stata una partita brillante da parte di Rafa Leao, lo abbiamo visto poco convinto sui palloni, in effetti poco convinto anche nel dialogo con Teo Hernandez, solitamente quel binario lì, l'asse di sinistra tra Leao e Teo Hernandez è sempre stato un asse collaudato e soprattutto un duetto che ha sempre funzionato, stasera poco coinvolti, evidentemente la Roma ha usato una gabbia speciale sui due giocatori rossoneri più pericolosi evidentemente del Milan, ma questa sera davvero poche occasioni, vediamo si sta girando Orighi al limite dell'area della Roma ma viene fermato, palla scaraventata in avanti esce Malik Chao con Meignan e riparte il Milan con Pierre Calulu, 92-38 sul cronometro, ne hanno assegnati sei di minuti di recupero quindi ne mancano tre e mezzo, quasi tre, la partita che sta per volgere al termine, ripeto, gara che tecnicamente è stata molto brutta, poche le occasioni, ora c'è un contropiede da parte della Roma, vediamo, attenzione, contropiede Roma, Ebram gol! c'è il gol di Ebram, c'è il gol di Ebram in contropiede, c'è il gol di Ebram, questo è un gol pesantissimo per la Roma che segna in contropiede, d'altronde il Milan era anche sbilanciato in avanti, comunque un'azione di ripartenza della Roma al 93-30 secondi, Ebram porta in vantaggio la Roma, questo gol è un gol pesante per la Roma perché se dovesse finire così significherebbe che la Roma è in vantaggio anche per gli scontri diretti, se Milano e Roma poi dovessero terminare il campionato con gli stessi punti. Però questo è un risultato pesantissimo perché però c'è una spallata su De Ketelare a inizio azione, poi la palla arriva a Ebram che si gira bene, la mette nell'angolino, elude l'intervento di Calulu, la palla che passa anche sotto alla gamba di Calulu, Calulu è scivolata, la palla gli passa sotto e Ebram porta in vantaggio la Roma all'ultimo minuto, questo è un gol pesantissimo per la squadra di José Mourinho, veramente partita complicata per il Milan, si è visto sin dal primo minuto e poi la Roma ha colpito così in contropiede, 94esime 50 secondi, praticamente manca un minuto, un minuto e mezzo, in effetti manca poco e vediamo se il Milan ha qualche occasione che fino ad ora non ne ha avute, praticamente è stata una partita brutta dall'inizio alla fine ma la Roma alla fine ha colpito con Ebram, gol ripeto pesantissimo perché ora la Roma è in vantaggio non solo di tre punti in classifica, da 56 sale a 59 ma è anche in vantaggio negli scontri diretti perché all'andata il Milan ha pareggiato 2-2 e al ritorno la sta perdendo, manca davvero poco, 30 secondi, vediamo se l'arbitro orsato allungherà il recupero, non ci voleva, non ci voleva, è stata un'azione abbiamo visto subito in contropiede, il Milan era messo male, era schierato male, ha subito questa rete proprio nei secondi finali, ha salto in questo momento, nemmeno più di tanto, palla nelle retrovie, Calabria, Calulu, vediamo se Calulu butta la palla in avanti, niente da fare, neanche Teo Hernandez si giochicchia lì dietro, niente ancora, c'è un fallo per il Milan, 96esimo in questo minuto, la partita sarebbe finita, vediamo, ha allungato ancora il recupero, palla in avanti, scagliata da Mike Mignan, vediamo se succede qualcosa, Leao, 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 calcio in area di rigore, gol, il gol del Milan con Saleme Kerr, 1-1, 1-1 del Milan con Saleme Kerr, proprio al 96esimo e 30 secondi, 1-1, 1-1, Saleme Kerr, salve il Milan proprio al 96esimo e 38 secondi in questo momento, incredibile, un cross in area di rigore, la palla arriva su Saleme Kerr che si infila dalle retrovie e butta la palla dentro, pazzesco, pazzesco, vediamo Mignan, Mignan che scaglia la palla in avanti, il pallone arriva sui piedi di Leao, Leao che cross in mezzo, arriva Saleme Kerr, la colpisce e la palla che finisce in rete anche sotto le gambe di Bagnets, vediamo se c'è un contatto, probabilmente si sta guardando un contatto in area di rigore tra un giocatore della Roma che è cascato prima e poi De Ketelare, ma no, l'arbitro orsato ha dato il gol, siamo al 97esimo e 28 secondi, vediamo, vediamo, 1-1, l'arbitro ha dato il gol, quindi Mignan che pareggia e che in questo momento salva un attimo la situazione perché il gol di Ebram è stata una doccia fredda per il Mignan ma Saleme Kerr ha salvato tutto, 1-1 al 97esimo e 50 secondi, quindi si sforerà il 98esimo, pazzesco, 1-1 tra Roma e Milan, poteva andare molto peggio, poteva andare molto peggio e vediamo se l'arbitro orsato fischia, c'è una rimessa laterale a favore della Roma, vediamo, no, ora c'è una rimessa laterale a favore del Mignan e quindi si gioca ancora, 1-1, gol di Saleme Kerr proprio nei secondi finali dopo quello di Ebram, c'è un rinvio dal fondo da parte di Tevernades, il Milan in avanti, vediamo se il Milan riesce addirittura a vincerla questa partita con ancora Saleme Kerr sulla fascia di destra, Saleme Kerr, Saleme Kerr, vediamo, in area di rigore, sbaglia l'appoggio per Kroenic, poteva essere una bella opportunità finale per il Milan questa, ma siamo al 98esimo e 45 secondi, una partita interminabile, ancora il Milan che butta la palla in avanti nella speranza che possa succedere qualcosa, Tevernades, ancora lui sulla fascia sinistra, scambia con Leao, Leao con Sandro Tonali, ancora Rafa Leao, si gioca ancora, 99esimo, 99esimo e 10 secondi, si gioca ancora, palla di Tonali in area di rigore, presa facile per lui Patricio, e finisce qua, finisce qui Milan che pareggia 1-1 in casa della Roma, poteva andare peggio, visto come si era messo il match, ma è un 1-1 che secondo me sposta davvero poco a livello di classifica, c'è anche l'abbraccio finale tra Murigno e Pioli.